Ovviamente cercherà la conclusione, pallone dietro la schiena, difficoltoso, poi Ceron ruba palla, contropiede, Ceron, l'energia di Ceron, il canestro e il fallo di Marco Ceron Che fa la cosa migliore del suo campionato nel momento più difficile L'aria colorata, in fase difensiva, la stoppata con interferenza da parte di Dickens, quindi canestro per Marco Ceron